Ciao a tutti! In questi giorni non si fa che parlare di epidemie, coronavirus, influenza, eccetera, eccetera, numeri, percentuali, eccetera, eccetera. Il vero problema di questo nuovo virus è che si trasmette in modo molto facile, molto veloce, e in modo altrettanto facile si possono sviluppare le complicanze che tutti sappiamo. Come la solita influenza, però, le categorie a rischio, quindi anziani, bambini, persone con delle problematiche di salute molto grandi, è proprio questo il problema. Quando l'organismo è debole, ovviamente questi virus fanno man bassa e succede quel che succede. I soggetti comunque sani, che si mantengono comunque in salute, o comunque l'organismo forte e sano è un pochino più resistente rispetto a queste problematiche. Ci sono inoltre delle norme molto semplici per prevenire quanto più possibile questo tipo di problematiche, che tutti sappiamo, insomma, in questi giorni quel decalogo di regole sta intasando tutti i social, quindi non starò qui a annoiarvi con la ripetizione a pappagallino di tutte queste regole. Vi posso dire però che aiuto può derivare dalla natura. La natura offre dei rimedi che sostengono la difesa immunitaria. Fate largo a echinacea, titrioil, rosa canina, sambuco, propoli ed estratti di semi di pompelmo. Questi sono solo alcuni dei rimedi, però sono quelli molto efficaci. Possono essere utilizzati in tisana, in estratto secco o in tintura madre. Lavorano molto bene in tintura madre, in quanto cominciano ad avere effetto molto più velocemente rispetto all'estratto. La posiologia è 30-50 gocce al giorno in prevenzione. In caso di problema acuto, quindi influenza, raffreddore, raffreddamento in generale, si arriva anche a 50 gocce tre volte al giorno. Sono dei rimedi che vanno a rinforzare le difese immunitarie, vanno a sostenere e modulare l'azione del nostro sistema immunitario e vanno ad aumentare un attimo la resistenza dell'organismo all'influenza. Sono dei rimedi che vanno benissimo anche per i bambini, in particolare rosa canina, addirittura anche nei neonati. Quindi, la posiologia per i bambini sotto i due anni sono 4-5 gocce, massimo due volte al giorno. Sopra i due anni, una goccia per chilo di peso corporeo, tre volte al giorno, fino a tre volte al giorno. Ovviamente anche qui, in caso di prevenzione, una volta al giorno, in caso di fase acuta, tre volte al giorno. Se vi interessa vi lascio il link alla pagina Facebook. Fatemi sapere! Ciao!